Non abbiamo più tempo. Hai visto che sta succedendo. Siamo dietro di voi! Vai! Vieniti forte! Posso gestire Thomas. Arriverà alla fine. È quello che mi spaventa. Li hanno presi perché siete immuni al virus che sta decimando la razza umana. Vino! Sono disposti a sacrificarti per trovare la cura. Non si fermeranno. Dobbiamo fermarli noi. L'ultima città è la base operativa di Wicked. La tana del leone, hermano. È lì che andremo. Tre anni dietro quelle mura cercando di evadere. E ora cerchiamo di tornare indietro. Va bene, io davanti. Il mondo sta morendo. Trovare la cura è l'unico modo per dare un senso a tutto. Ti sei pentita di quello che hai fatto. Era quello che ritenevo giusto. Non lo so se riusciremo a tornare. Abbiamo iniziato insieme. Finiremo allo stesso modo. Ti importa ancora di lei, vero? Non mentirmi! Fatte sotto. Quanti ragazzi devono prendere, torturare e uccidere. Quando finirà? Finirà quando troviamo la cura. Thomas, o salvi i tuoi amici. O salvi tutti noi. Correte! Ti prego, Tommy. Ti prego. Quanti ragazzi? No. Quanti ragazzi? Tipico. Sonica. Buono un'omo... Affaniamo. Sì. Sì.